Da venerdì 5 febbraio il ponte sul fiume Bacchiglione a Correzzola in provincia di Padova lungo la strada provinciale 59 verrà riaperto. Un'opera finanziata dalla provincia di Padova con 700 mila euro e conclusa in un anno. Sentiamo il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui. Un investimento importante della provincia a servizio di un territorio. 700 mila euro il costo per un'opera strategica, un'opera che ripristinerà la viabilità a Correzzola e in tutto il territorio. Il ponte ad arco sul fiume Bacchiglione era stato costruito nel 1925 e dal 2010 è vincolato alla sovrintendenza, pertanto non è stato possibile demolirlo e poi ricostruirlo. Il degrado ne aveva compromesso la sicurezza statica e fatto di staccare anche i calcestruzzi, dunque è stato necessario in questi anni limitare la portata a 8 tonnellate. L'intervento della provincia con l'inserimento tra le altre cose di rinforzi in fibra di carbonio consente ora sia un miglioramento della sicurezza sismica sia la possibilità di garantire le prestazioni di portata fino a 24 tonnellate.